Chiarire la situazione relativa alle 32 cappelle del cimitero comunale mai consegnate nonostante siano state già pagate dai cittadini. E' quanto chiede il capogruppo di Battipaglia Libera, Alessio Cairone, che nei prossimi giorni presenterà insieme agli altri consiglieri di minoranza un'interrogazione ad hoc. La consegna delle cappelle, secondo gli accordi, era prevista per settembre, ma per ben due volte è stata rinviata. Quando è partito il progetto del nuovo cimitero era stato detto che a conclusione dell'opera verrà restituita una percentuale ai cittadini che hanno acquistato queste cappelle. Quindi fin quando non consegneranno queste 32 cappelle, oltre al danno di queste 32 famiglie che non si vedono recapitare queste cappelle, ci sta il danno per tutte le altre famiglie che hanno acquistato la cappella che gli è stata consegnata, quello appunto di non vedersi ritornare indietro questa percentuale in più che è stata pagata a inizio progetto praticamente. Quindi questo è il primo problema che va risolto oltre a quello delle cappelle. Poi ci sta il paradosso, se così possiamo dire, praticamente che quello che se io oggi, così faccio l'esempio di me, così non offendiamo nessuno, se io oggi che ipoteticamente ho acquistato questa cappella dovessi venire a mancare, chi per me non solo non potrà tumularmi nella cappella che io tanto desideravo, ma dovrà acquistare un loculo che gli costerà 2500 euro, pagare circa 800 euro per essere tumulato, poi quando sarà pronda, mi auguro a breve, la mia cappella, praticamente i miei familiari mi sposteranno da questo loculo, mi porteranno nella cappella pagando altri 800 euro, quindi questo capirete che è un paradosso, è un'assurdità. Qual è la proposta? Se io che ho acquistato questa cappella domani mattina dovessi mancare, o un familiare a me prossimo, il comune che sa che mi dovrà assegnare questa cappella, mi assegna provvisoriamente un loculo, quindi senza che io versi questi 2500 euro, facendo un verbalino dove mi dice, nell'attesa che ti venga consegnata questa cappella, momentaneamente ti metteremo, verrai messo in questo loculo, in modo tale che quando la cappella sarà pronta, i miei familiari pagheranno solamente 800 euro per tumularmi nella mia cappella. Io credo che questa sia la soluzione migliore.